Tra l'altro per Pozzi ho rischiato di totalmente defraulare completamente nei pulmoni perché era uscito da un intervento chirurgico quattro giorni prima per andare in Argentina. Però non è stato un errore Pozzi, l'errore sono stati Turbe, perché i Turbe dopo aver fatto un straordinario gol con la Iuretus ha fatto quella stupida esultanza che fanno i giocatori moderni, quella strisata con i ginocchi interna. E il giorno dopo è venuto in ufficio accusando un forte dolore al ginocchio. Io l'ho portato dal chirurgo e lui ha detto che bisogna operarlo. Ma io l'ho comparato 10 giorni prima, ho pagato abbastanza e gli ho detto tu sei manco, faremo cure di mantenimento. Però lui nei mesi da venire ha perso la qualità il CLF che era lo spunto di velocità da un pochettino, come dire, lasciato per strada e quindi è un pochino andato indietro come recinetto. Mi spiace che era una calzone che va dietro, però accetto che sia stato considerato l'anno di farci. Si, questo è un pochino perché sono un pochino, un pochino, i paesi che sono curiosi. Grazie.